Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Anticiclone sull'Italia, il weekend trascorrerà l'insegna di un tempo asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio di sabato 11 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso, non esclusa qualche riduzione della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Temperature minime stazionarie saranno ancora sotto zero dappertutto, massime tra 8 e 9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ce lo mostra la grafica, il cielo sarà poco nuvoloso per la presenza di locali velature. Temperature minime tra lo zero e meno due gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove di fatto sarà molto soleggiato con solo qualche temporaneo annuvolamento ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 1-2 gradi, massime intorno agli 11-13 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.